Musica Poderia, agricoltore rimane incastrato tra le lame della sua motozappa, liberato dai vigili del fuoco, Sant'Arsenio, protocollo d'intesa tra la Banca Montepruno, la Camera di Commercio di Salerno e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Sala Consilina per formazione dei professionisti e informazione alle imprese. Padula, nuovo servizio per il trasporto degli studenti del liceo Pisacan residenti a Tardiano, la provincia di Salerno approva il nuovo collegamento. Le eccellenze Campania a Milano, apre domani, spazio Campania. Sansa, tutto pronto per la ciaspolata sul Monte Cervati. Musica Buonasera e bentrovati al nostro telegiornale, apriamo con la cronaca. C'è stato un incidente sul lavoro questa mattina a Poderia, dove un agricoltore è rimasto gravemente ferito da uno a motozappa. Ne c'è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Attimi concitati e drammatici vissuti questa mattina in località Poderia, frazione di Celle di Bulgaria, dove un agricoltore locale è rimasto vittima di un gravissimo incidente sul lavoro, che ha richiesto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, con il caposquadro esperto Eugenio Siena e il caposquadro Mimmo Donza di Sala Consilina, in servizio temporaneo al distaccamento dei caschi rossi di Policastro. L'uomo, cinquantenne del posto, mentre era in tento nella lavorazione del terreno agricolo di sua proprietà nelle campagne di Poderia, è rimasto accidentalmente intrappolato tra le lame del suo motozappa, avvolgendole tutta la gamba e ferendolo gravemente. L'uomo al momento dell'incidente era solo sul posto. Sono state le sue grida strazianti ad attirare l'attenzione di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze e che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Ad intervenire sul posto, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un'aliambulanza, per il trasferimento immediato presso il più vicino ospedale. Ad arrivare per primi sul posto i caschi rossi, che sono giunti a piedi con gli attrezzi per effettuare le operazioni di soccorso, a causa dell'impossibilità di percorrere il tratto di strada con i mezzi dei vigili del fuoco, impercorribili per alcuni tratti e anche con i fuoristrada. Non è stato facile liberare il povero malcapitato dalle lame del moto zappa. Dopo un attento e meticoloso intervento dei caschi rossi, sono riusciti nelle operazioni affidando l'uomo, il cui arto ha subito gravi ferite, alle cure dei sanitari che hanno immediatamente provveduto al trasferimento in ospedale attraverso il velivolo sanitario. Ieri sera, presso la Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio, c'è stato il primo di una serie di appuntamenti formativi destinati ai professionisti e alle imprese per aiutarli ad orientarsi nei cambiamenti normativi introdotti in materia economica e giuridica come la fatturazione elettronica obbligatoria e la nuova legge sulla privacy. Sono stati i primi due argomenti ieri pomeriggio affrontati con esperti relatori come il dottor Claudio Costa per la fatturazione elettronica e l'avvocato Nicola Pellegrino per la legge sulla privacy. È partito quindi con grandi e attuali temi il progetto Informiamoci promosso in collaborazione tra la Banca Montepruno, la Camera di Commercio di Salerno e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina. Ascoltiamo ora i protagonisti ieri sera. Siamo riusciti a fare questa bella iniziativa, a creare soprattutto un bel progetto in coordinamento con la Camera di Commercio, con l'Ordine dei Commercialisti per trattare temi che interessano tutto il mondo emergitoriale. Saranno approfondite tematiche veramente di interesse non solo economico ma anche di carattere praticamente bancario come antiriciclaggio, accesso al credito e quindi siamo soddisfatti di aver fatto questa partnership che poi riprende un concetto molto caro che è quello della rete. Con la rete si riesce a far crescere il territorio e tutti gli operatori economici e non solo che vi operano. Ma noi abbiamo questa duplice veste di essere da un lato recettori di tutta una serie di normative, di novità dal punto di vista legislativo che ci toccano come banca, però come operatore peraltro economico del territorio dobbiamo anche far sì che questa normativa venga interpretata e resa utile per la crescita dell'economia e quindi ci rendiamo spesso portavoci di queste novità chiamiamo al nostro tavolo tutti gli organismi, gli enti che devono curare la crescita del territorio insieme a noi e questa partecipo di Erna va proprio in questa direzione. Abbiamo sentito l'obbligo di partecipare a questo protocollo di indesa visto l'invito che con grande sensibilità ci ha fatto la Banca Montepruno insieme con l'ordine dei commercialisti abbiamo deciso di fare questo protocollo di indese per dare anche noi il nostro contributo per la formazione sia per delle imprese che dei commercialisti. La Banca Montepruno dimostra come sempre grande sensibilità nei riguardi del territorio e delle imprese che operano qui nel Vallo di Diano proprio per questo motivo abbiamo appreso con grande entusiasmo questa iniziativa che è una delle tante che vede sempre protagonista la Banca Montepruno di Roscigno e questo territorio. Abbiamo abbinato la firma di questo protocollo di indesa a tre, cioè l'ordine dei commercialisti di Sala, la Banca Montepruno e la Camera di Commercio di Salerno in modo da creare una sonergia per l'organizzazione comune, per l'organizzazione di alcuni eventi sia per le imprese che semmai sono destinatari e diretti di questi eventi sia i commercialisti che comunque seguono le imprese e quindi ne forniscono la consulenza e in alcuni casi, siccome parleremo anche di accesso a credito, alcuni eventi saranno utili anche alle stesse banche, alle stesse addette della banca. Ci troviamo in un momento di forte evoluzione e in particolare in modo gli impeditori devono essere messi a conoscenza di quelli che sono gli aspetti che possono condizionare il futuro delle loro attività. Il tema legato all'accesso a credito è importante perché chiaramente le banche hanno sempre delle regole più stringenti per effettuare le loro valutazioni, però ci parleremo anche dei temi di controllo di gestione. C'è la necessità di ricevere alcuni report sia dalle banche e sia su un altro aspetto legato alla crisi di impresa che quest'anno e l'anno prossimo ci sarà una vera e propria rivoluzione delle procedure concorsuali dove in questo caso la presenza della Camera di Commercio è importante perché la Camera di Commercio dovrà costituire un organismo di composizione della crisi per cercare di prevenire lo stato di crisi dell'impresa per evitare che si possa tramutare in uno stato di insolvenza. Il reddito di cittadinanza, provvedimento tanto atteso, ha mosso i primi passi. È nato il sito, è stata presentata la prima card ed emergono anche i dati su chi riuscirà a beneficiarne. Un numero di beneficiari che sembra non coincidere con le stime iniziali fornite dal Governo. Ma vediamo i dettagli. Primi passi ufficiali per il reddito di cittadinanza con la nascita del sito e la presentazione della prima card che di fatto inaugurano il provvedimento. Nel frattempo, dalle audizioni al Senato emergono i dati di chi ne beneficerà e sembra che la platea dei possibili beneficiari potrebbe essere inferiore, non di poco, alle stime iniziali fornite dal Governo. Secondo l'Istat, infatti, i percettori totali si fermeranno a 2,7 milioni di persone. Ancora più a ribasso la previsione dell'Inps con il presidente uscente Tito Boeri, che parla di 2 milioni e 400 mila. Numeri che non tornano e cifre quasi dimezzate rispetto a quelle indicate dal Governo, che a più volte è riferito di una platea di circa 5 milioni di persone. Secondo l'Istat, l'assegno interesserà una platea complessiva di 1 milione e 300 mila famiglie e 2 milioni e 706 mila persone. Il sussidio sarà erogato per oltre la metà a famiglie e residenti nel mezzogiorno per un importo medio di 5 mila euro l'anno. Oltre il 62% dei beneficiari in età del lavoro, tra i 16 e i 64 anni, che hanno al massimo la licenza elementare o nessun titolo o il diploma di scuola media, ma ci sono anche laureati con titolo post-universitario. Sono comunque i singoli i principali beneficiari, secondo l'Istat il 47,9% e oltre la metà, secondo l'Inps, che riceveranno in media un sussidio anno di 4.469 euro. Ma quali sono i parametri per avere accesso al reddito? A grandi linee si può dire che il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell'Unione Europea, oppure che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È inoltre necessario essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente deve godere di un'ISE inferiore a 9.360 euro, disporre di un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 30.000 euro o di 6.000 euro per il single o di un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui. Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro. Gli studenti di Tardiano di Montesano che frequentano il liceo scientifico Pisacane di Padula potranno raggiungere agevolmente la loro scuola. La provincia di Salerno ha infatti approvato la proposta dell'ex consigliere Paolo Imparato per un nuovo servizio di collegamento da Tardiano al Vallo di Diano. Dal 1 marzo gli studenti del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula che risiedono in località Tardiano di Montesano sulla Marcellana potranno soffrire di un servizio di trasporto che dal luogo di residenza li porterà direttamente nel centro storico di Padula dove è ubicato l'istituto scolastico frequentato così come saranno collegati ai diversi comuni valdianesi. A darne notizia il sindaco di Padula ed ex consigliere provinciale con deleghe trasporti Paolo Imparato che in questi mesi si è impegnato per favorire il collegamento tra scuola e territorio. La provincia di Salerno ha infatti approvato e di conseguenza autorizzato un supplemento sui servizi di trasporto al servizio della frazione di Tardiano di Montesano che potrà così avvicinarsi ai centri valdianesi superando di fatto, almeno per gli studenti, l'isolamento a causa della distanza. La proposta era stata lanciata lo scorso mese di ottobre nel corso di un incontro che aveva visto la dirigente scolastica del liceo scientifico Pisacane Liliana Ferzola insieme al rappresentante d'istituto Gianmarco Ungaro discutere con il sindaco Paolo Imparato nella sua veste di allora consigliere provinciale con deleghe trasporti delle difficoltà riscontrate dagli alunni di Tardiano nel raggiungere la scuola. Da qui l'impegno del consigliere che ha portato in queste ore ad ottenere l'autorizzazione a partire dal prossimo 1 marzo al collegamento Tardiano-Montesano-Teggiano-Santarsenio ed il collegamento diretto Sassano-Monte-San Giacomo e il liceo scientifico Pisacane di Padula. Un risultato importante a cui si è giunti grazie anche alla disponibilità dei tecnici dell'ente provincia come evidenzia l'ex consigliere provinciale. Desidero ringraziare, dichiara Paolo Imparato, il dirigente Domenico Aranesi e l'ingegnere Giuseppe Trotta per la grande disponibilità e per il lavoro svolto in questi mesi. Dopo anni si è riusciti a trovare una soluzione per una problematica riguardante gli studenti e la mobilità nel Vallo di Diano. Questa è la prova tangibile che gli impegni presi sono stati mantenuti. Aumenta il contributo per le famiglie con figli che frequentano gli asili nido. 136 euro mensili per sostenere le spese. Le domande possono essere fatte fino al 31 dicembre ma saranno i finanziamenti, il contributo sarà erogato fino ad esaurimento del fondo. La nuova legge di bilancio varata dal Governo Conte prevede tra le diverse misure inserite anche un aumento per l'agevolazione del bonus nido. Il contributo erogato dall'Inps è stato introdotto nel 2016 prevedendo 1.000 euro annuali per 11 mensilità per sostenere le spese di asilo nido pubblici e privati delle famiglie con figli fino a 3 anni oppure come sostegno per le spese di assistenza domiciliare per i bimbi affetti da gravi patologie. Dalla nuova legge di bilancio arriva ora un aumento del contributo che da 1.000 euro passa a 1.500 euro che diviso per 11 mesi portano il contributo mensile a 136 euro rispetto ai precedenti 90. È già possibile presentare la richiesta per accedere al bonus asilo nido attraverso un servizio online ricordando che la somma messa a disposizione è di 300 milioni e che il contributo sarà erogato in base all'ordine di arrivo delle domande stesse fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il servizio online è già accessibile ai possessori di un PINIPS di una identità SPID oppure per i possessori della Carta Nazionale dei Servizi. Se si è in possesso di tali dati c'è possibile effettuare le domande utilizzando il sito internet ufficiale www.imps.it e accedendo alla sezione famiglia quindi figli e studenti e infine prestazioni e servizi dove sarà possibile trovare tutte le informazioni relative al bonus asilo nido. Alla domanda che può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre del 2019 deve essere necessariamente allegato il pagamento della retta del primo mese di asilo nido o nel caso di asili pubblici i cui pagamenti delle rate posticipati rispetto al periodo in cui il bimbo ha frequentato l'asilo nido è sufficiente allegare la documentazione che attesta l'iscrizione del proprio figlio e l'inserimento in graduatoria. Inoltre è necessario anche inserire la documentazione e i dati relativi all'asilo nido di riferimento. Per ciò che riguarda invece i bimbi affetti da gravi patologie che impediscono al piccolo di frequentare l'asilo nido bisogna allegare alla domanda un certificato medico rilasciato dal pediatra. Da domani a Milano in Piazza Fontana ci sarà uno spazio a disposizione dei produttori campani per esporre le loro eccellenze e incontrare il resto dell'Europa in un luogo a loro completa disposizione grazie alla Regione Campania e a Union Camere. Apre domani Spazio Campania a Milano una vetrina permanente per i prodotti della nostra Regione nel cuore della capitale economica e finanziaria d'Italia. Da una partnership tra la Regione e Union Camere nell'ambito del progetto Campania Felix nasce la grande opportunità di promozione delle eccellenze produttive regionali. L'evento inaugurale si terrà domani a partire dalle ore 13 con la conferenza stampa di presentazione a cui prenderà parte il governatore Vincenzo De Luca. In Piazza Fontana a pochi passi dal Duomo sta per essere aperto uno spazio polivalente che offre l'opportunità di mostrare il meglio che la campania produce e a disposizione delle istituzioni e delle imprese utilizzabile tutto l'anno soprattutto durante gli eventi e le iniziative che saranno realizzate in occasione delle più importanti fiere che si tengono a Milano. Le imprese possono proporsi attraverso un bando delle Camere di Commercio ed esporre gratuitamente non solo sono anche previsti voucher per sostenere le spese di trasporto allestimento e comunicazione. Una grande occasione per l'economia campana che potrà sfruttare lo showroom come punto d'incontro tra le sue eccellenze e il resto dell'Europa. Spazio Campania a Milano è a disposizione dei produttori della campania che potranno presentare le loro eccellenze in occasione di fiere eventi nazionali e internazionali ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca dalla moda all'artigianato dall'impresa alla ricerca dalla cultura al food offriamo alle nostre eccellenze un luogo espositivo permanente nella realtà più dinamica d'Italia. Nel corso dell'anno saranno programmati all'interno di Spazio Campania eventi finalizzati a valorizzare il territorio i beni e le imprese regionali nonché la diffusione dell'innovazione della ricerca e del trasferimento tecnologico. E questa sera torna l'appuntamento settimanale con Angolo Cusati il professor Vincenzo Onorato del Lions Club Padula Certosa il pediatra Eppolito Pierucci e l'urologo nonché assessore alla sanità del comune di Praia Mare Pasquale Fortunato saranno ospitati da Pietro Cusati per parlare di diabete e vaccini per una corretta prevenzione. Non perdete l'appuntamento di questa sera subito dopo il nostro telegiornale noi ci fermiamo per qualche attimo di pubblicità. Bentornati in studio le acque del Cilento sembrano maledette per i delfini è stato ritrovato sulla spiaggia di Palinuro un altro esemplare morto il terzo caso in un mese. Terzo delfino trovato morto nelle acque del Cilento nell'arco di meno di un mese questa volta la carcassa dell'animale era lungo la spiaggia del litorale di Palinuro nei pressi del famoso molo dei francesi a dare la scoperta questa mattina sono stati alcuni passanti il delfino della specie Stenella al momento del ritrovamento presentava delle ferite sul corpo sul posto sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto che a loro volta hanno allertato il personale dell'Asra e i biologi del centro Anton Dorn di Napoli purtroppo non è la prima volta che si verifica un episodio del genere un altro delfino era stato ritrovato nel comune di Spani sulla spiaggia di Capitello il secondo invece solo alcuni giorni fa a San Marco le stenelle nuotano abitualmente in prossimità della superficie del mare e vengono così facilmente avvistate durante le navigazioni possiedono straordinarie abilità acrobatiche e compiono salti anche 7 metri fuori dall'acqua capriole all'indietro e incredibili rotazioni su loro stesse quindi gli appartenenti a questo genere sono fra le specie di delfini più note per via delle loro abitudini di avvicinarsi e seguire le navi che incontrano durante il loro percorso in mare sabato a Sala Consilina si terrà il convegno e il Vallo di Diano fra crisi e prospettive dedicato a commercianti e imprenditori del territorio a confrontarsi sul tema diversi soggetti economici vediamo del Vallo di Diano tra crisi e prospettive si disputerà nel convegno dedicato a commercianti e imprenditori del territorio che si terrà sabato 9 febbraio a Sala Consilina presso l'aulamagna delle scuole elementari in via Matteotti a partire dalle ore 16 e 30 l'osservatorio europeo del paesaggio la banca Montepruno l'associazione imprenditori Vallo di Diano Confindustria Salerno e Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano si confronteranno sullo stato di salute economica del territorio accompagneranno i presenti in un'analisi del quadro attuale con uno spaccato sui punti di forza del Vallo di Diano per poi fornire informazioni utili idee e suggerimenti per il futuro del commercio e dell'imprenditoria locale un momento di riflessione per capire se su questo territorio si può ancora scommettere dopo i saluti del sindaco Francesco Cavallone sabato interverranno Cono De Paola presidente del raggruppamento interesse territoriali aziende Vallo di Diano Massimo Burzo dell'Ions Club Sala Consilina il commercialista Aurelio Mango Valentino Di Brizzi presidente dell'associazione imprenditori Vallo di Diano e Michele Albanese direttore generale della banca Montepruno modererà l'avvocato Angelo Paladino e le conclusioni saranno affidate all'onorevole Franco Picarone presidente della commissione bilancio della regione Campania Progetti finalizzati dedicate alla comunità e proprio per proteggere questi valori si propone un prodotto che possa realizzare progetti sociali la protezione di un ipolsai terzo settore si rivolge ad associazioni di volontariato sportive dilettantistiche sociali ricreative e culturali ai servizi all'infanzia e da oggi grazie ad un set informativo dedicato anche ai rischi temporanei ovvero eventi di breve durata circoscritti in un lasso di tempo definito le attività che svolgono le no profit nel nostro territorio sono importantissime afferma Angelo Greco agente generale della storica agenzia di Polla e noi nella nostra azione di stimolo e di sostegno verso le tante realtà che negli anni si sono costituite e affermate conosciamo perfettamente le esigenze di tutela e di prevenzione di cui hanno bisogno pertanto cogliamo l'occasione dell'attenzione che un ipolsai ha rivolto verso queste realtà rinnovando la nostra massima disponibilità a soddisfare i bisogni assicurativi di questo segmento mettendo a disposizione l'affidabilità e la consulenza dei nostri agenti che sono sin da subito disponibili direttamente presso i nostri uffici è in programma a Sanza per domenica prossima 10 febbraio la classica ciaspolata sul monte Cervati l'incontro è previsto a Sanza per le ore 10 in località Colle del Pero che dovrebbe essere facilmente raggiungibile in automobile domenica 10 febbraio ritorna una classica d'inverno la ciaspolata sul monte Cervati organizzata dai soci del CAI di Sanza e dalla Proloco si prevede la partecipazione di decine di amanti della natura e della montagna con un percorso organizzato per una lunga passeggiata sulla neve dal Colle del Pero al Ruscio di Vallevona per motivi organizzativi la prenotazione obbligatoria chiamando i numeri di cellulare messi a disposizione con questa ciaspolata apriamo ufficialmente la stagione delle escursioni invernali ha commentato il presidente della Proloco Vittorio Briglia la neve quest'anno è abbondante ed offre un paesaggio mozzafiato che rende ancora più bello il monte Cervati aggiunto un'iniziativa che nasce dalla stretta collaborazione tra CAI Club Alpino Italiano di Sanza e Proloco con il supporto dell'amministrazione comunale di Sanza che crede profondamente così come noi nel rilancio turistico della nostra comunità aggiunto Maria Concetta la veglia del CAI si aspettano quindi numerosi tutti coloro che amano la montagna e che vorranno trascorrere una giornata all'insegna della natura dell'ambiente e del bello in amicizia tutto brondolunque per apprezzare la bellezza assoluta del Cervati innevato è tutto per questa edizione termina qui il nostro telegiornale vi ringrazio per la cortesa attenzione vi auguro buona serata Grazie a tutti